come l'anno scorso titolo italiano sulla 10 chilometri bis nella mezza maratona come l'anno scorso sì ma in una categoria diversa non più junior quella relativa agli under 20 ma promesse dimensione agonistica quest'ultima di durata triennale che coinvolge gli under 23 gli ultimi due mesi sono stati da incorniciare per pasquale selvarolo che ha vinto a settembre il tricolore sulla 10 chilometri a canelli in provincia di asti ed è salito sul gradino più alto del podio storia di domenica scorsa anche sulle strade di palermo nei campionati italiani di mezza maratona con il crono di un'ora 6 minuti e 29 secondi inoltre ha polverizzato il precedente primato personale sulla 21 chilometri è stato un anno abbastanza difficile in quanto non pensavo di riuscire a realizzarmi in questa maniera speravo comunque di migliorare i miei tempi ma diciamo gli obiettivi per quanto riguarda i titoli italiani erano secondari visto che comunque mi approcciava ad una nuova realtà agonistica con gente più grande in quanto la categoria promesse quella degli under 23 diciamo mi vedeva tra i più piccoli e quindi avevo dato priorità alle questioni cronometriche e settembre ottobre sono stati due mesi intensi dopo una preparazione in altura in agosto e sono contento non me l'aspettavo devo dire però come al solito il duro lavoro paga sempre quindi ho portato a casa questi due titoli e sono molto soddisfatto sistemato in bacheca il quarto tricolore della carriera al 19enne atleta andriese ora è già concentrato sulla stagione autunnale della corsa campestre il 10 novembre sarà in gara a prosecco contovello nella provincia triestina alla carsolina cross il 24 dello stesso mese invece parteciperà ad ossimo in provincia di ancona al cross valmusone saranno entrambe prove di selezione in vista degli europei della specialità in programma l'8 dicembre a lisbona il portacolori dell'atletica casone annoncetto parma punta a conquistare la convocazione sarebbe per salvarolo la prima maglia azzurra in carriera tra gli under 23 non male per uno che al primo anno tra le promesse si cimenterà in questa categoria sino al 2021 essendo passati in una categoria superiore quest'anno si correranno 9 chilometri piuttosto che 6 e comunque mi dovrò confrontare con gente più grande prima a livello italiano quindi con trieste ossimo e poi eventualmente nel caso in cui dovessi essere selezionato per la squadra azzurra nel in ambito degli europei ci saranno comunque ad affrontare gli under 23 di tutto il continente quindi sarà una dura sfida io spero di riuscire a a convincere i direttori tecnici nazionale quindi la federazione per mettermi alla prova perché in realtà sarebbe davvero la ciliegina sulla torta per questa annata che ripeto non mi aspettavo andassi in questo modo ma che mi ha fatto venire fame di di successo